Da diverse settimane, le preoccupazioni riguardanti la salute di Kate Middleton, membro della famiglia reale britannica, hanno suscitato l'interesse del pubblico. In particolare, si è discusso ampiamente del suo recupero e del suo ritorno in pubblico. Queste domande sono emerse anche nel contesto del celebrity Big Brother britannico, dove uno degli ospiti è Gary Goldsmith, zio di Kate Middleton. Durante una puntata del programma, la modella turca Ekin Sukul Kuloglu, vincitrice di Love Island 2022, ha chiesto a Goldsmith notizie sulla salute di sua nipote Kate senza mezzi termini. Con una certa esitazione, Goldsmith ha risposto, poiché non desidero che se ne parli, l'ultima cosa che farò è, è stato chiaro fin da subito che l'argomento era delicato. Non possiamo parlarne, ha insistito Ekin Sukul Kuloglu. Goldsmith, fratello di Carol Middleton, madre di Kate, ha spiegato, c'è un certo codice di condotta. Se ci saranno aggiornamenti, esprimerò un'opinione. Spero che stia meglio, ha risposto Ekin Sukul Kuloglu, trovando conforto nelle parole di Goldsmith. Ho parlato con mia sorella, sua madre sta ricevendo le migliori cure. Tornerà, ne sono certo, ha aggiunto Goldsmith, facendo riferimento al comunicato ufficiale. Quest'ultimo ha annunciato il successo dell'intervento chirurgico all'addome di Kate e ha specificato che non riapparirà pubblicamente fino dopo Pasqua. Anche se la situazione chiarisce l'assenza di Kate dall'attenzione mediatica, ha alimentato speculazioni e preoccupazioni, costringendo i portavoce di Buckingham Palace a intervenire per contrastare la diffusione di notizie non confermate.